Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. La SSD Città di Teramo 1913 ieri ha comunicato di aver trovato l'intesa per il completamento dello staff tecnico a disposizione di Mr. Marco Pomante con tre gradite riconferme. Il vice allenatore Vincenzo Vespa, il preparatore atletico Francesco Petrarca e il preparatore dei portieri Gianni Di Giacomo. Il pensiero del vice Vespa. L'annata precedente abbiamo avuto la possibilità di conoscerci meglio, lavorando in armonia e con professionalità. Sono felicissimo di poter continuare con uno staff di valore. L'eccellenza è un campionato che ho avuto la fortuna di vincere da calciatore e posso dire che non basta avere una squadra con grandi firme perché rispetto alla promozione il livello fisico e atletico dei competitors cambia radicalmente. Ho trovato un presidente ambizioso, continua Vespa, con le idee chiare e che vuole pianificare tutto in una piazza di grandi tradizioni. Anche il preparatore atletico Francesco Petrarca afferma «Dopo una stagione intera abbiamo oliato i meccanismi e ritengo l'operatività sarà molto più fluida. Dalla mia angolazione non posso che essere lieto di poter avviare una vera preparazione estiva, a differenza della stagione passata, perché il prossimo campionato presenterà un livello più alto di almeno due categorie rispetto al precedente, dunque ci sarà da faticare. Infine anche il preparatore dei protieri, Di Giacomo, così si è espresso. Poter continuare a lavorare in una piazza del genere significa tanto per me e rende meglio l'idea della simbiosi creatasi con lo staff e del rapporto di fiducia generatosi con il mister dopo un positivo lavoro di equip. In eccellenza, conclude Di Giacomo, tante situazioni cambieranno e il coefficiente di difficoltà sarà più elevato, ma ci faremo trovare pronti». Grazie! Grazie!